Siamo una società ESCO fondata nel 2009, noi ci occupiamo di efficientamento energetico. Siamo importatori esclusivisti su quattro nazioni in Europa di prodotti che servono per l'ottimizzazione dei sistemi energetici. Ci occupiamo praticamente di audit energetico, quindi di cicli di lavoro e proponiamo le nostre soluzioni proprio per migliorare tutto quello che è il sistema operativo di un'azienda o nel settore commerciale e anche residenziale. Siamo un'azienda